Oggi nella giunta del CONI di fine anno il presidente Maragò, la giunta del mondo sport ha voluto dare un segnale importante, un segnale che riguarda un problema universale che è quello della molestie sui giovani, sulle donne e per quello che riguarda anche gli sport equestri sugli animali perché oggi è stato deliberato che tutti i radiati con sentenza passata ingiudicato in uno sport per comportamenti che riguardano molestie o violenze su persone o su animali restano fuori da tutto il mondo dello sport. È un segnale chiaro per dire che lo sport è pulito e non accetta questo tipo di comportamenti.